Ciao, oggi voglio invitarvi nel mio studio per mostrarvi un accessorio molto interessante per aggiungere un pizzico di creatività a tutte le nostre immagini. Ben ritrovati cari amici, sono Massimo di Aproma Store e quest'oggi voglio invitarvi con me nel nostro nuovo studio per mostrarvi un accessorio molto interessante che ci consentirà di aggiungere un pizzico di creatività a tutte le nostre immagini. Si tratta di Photics Pop One, uno spot ottico che ci consente di avere un totale controllo della nostra luce. Photics Pop One è un aggiuntivo che posso montare su qualsiasi illuminatore flash o led, dispone di un'ampia gamma di anelli adattatori per poterlo montare su torce Godox, Bowens, Photics, Elinchrom o Profoto e ci permette di avere il totale controllo sulla proiezione della luce in quanto è un vero e proprio sistema ottico che mi consente di mettere a fuoco e di sagomare la proiezione luminosa che andrò a fare sul soggetto o sulla parete. Ve ne ho già parlato diffusamente in un video precedente che vi invito ad andare a vedere, dove l'ho utilizzato come luce principale per illuminare dei dettagli molto precisi del soggetto, della nostra bellissima Giulia. Quest'oggi lo utilizzerò come luce d'effetto andando a lavorare sul fondo con gli accessori che trovo in dotazione nella sua confezione. Proprio perché quest'oggi lo utilizzerò non come luce principale ma come luce d'effetto inizierò ad impostare il mio set con quella che è la luce principale che caratterizzerà la luce sul soggetto. Andremo ad utilizzare un softbox di piccole dimensioni che ci consentirà di concentrare il fascio luminoso di una luce morbida, quella tipica di un softbox sul viso della nostra modella che anche quest'oggi sarà Giulia, cercando di non far arrivare la luce della nostra sorgente di luce principale sul fondale dove invece andremo ad agire in un secondo momento con gli effetti di Pop One. Bando alle ciance, cominciamo a scattare. Partiamo, come ho già detto, sempre dalla luce principale che in questo caso è costituita da un Elinchrom One con un piccolo softbox G-Capsule di Fotix da 40 cm, abbastanza deep, abbastanza chiuso, abbastanza direzionale, su cui per avere ancora maggior controllo ho montato anche una griglia. In questo modo sarò sicuro che la luce morbida del softbox ma direzionale grazie alla griglia sarà indirizzata solamente sul viso e sul corpo di Giulia senza finire sullo sfondo dove in un secondo momento andremo a illuminare, andremo ad inserire degli effetti grazie a Pop One. La posizione della nostra luce principale è alta ed inclinata, frontale rispetto a Giulia, per avere uno schema di luce Butterfly o Paramount. Per maggior facilità negli scatti ho posizionato il mio Elinchrom One su un C-Stand che grazie al suo braccino a giraffa mi consente di tenere l'asta verticale dello stativo leggermente decentrata e non impallarmi, come si suol dire, durante le fasi di riproduzione. Quindi mi consente di avere la luce frontale senza avere l'ingombro dello stativo. Direi che possiamo fare qualche scatto solamente con questa luce per vedere l'effetto e capire poi come operare con Pop One per inserire le luci d'effetto. Benissimo Giulia, stai più frontale possibile, solleva leggermente il mento così riusciamo ad accentuare l'effetto della nostra luce Butterfly. Facciamo qualche scatto in orizzontale e qualcuno in verticale. Ok, ecco, questi sono solamente degli scatti di test ma vediamo che il carattere delle nostre immagini c'è, quindi la nostra luce Butterfly con la tipica ombra sotto il naso che ricorda quella di una farfalla che dà il nome a questo schema di luce. Il nostro fondo, che in questo caso è una parete grigia, si perde totalmente lasciandoci spazio per l'aggiunta della luce d'effetto che andremo a creare ora col Pop One. Allora, ho posizionato Pop One in modo da proiettare dietro Giulia sulla parete di fondo. Andrò a sfruttare uno dei tanti accessori in dotazione, ovvero i Gobos, che mi permettono di proiettare delle forme, delle sagome. In questo caso ho scelto quello con l'effetto tapparella. Lo inserisco nell'apposito porta Gobos e vado ad inserirlo nel nostro proiettore. Grazie alla lampada pilota vedo già la proiezione sul fondo. Nel video precedente, quando abbiamo utilizzato Pop One per andare a illuminare dei dettagli in modo molto nitido, siamo proprio andati a cercare la messa a fuoco e la nitidezza. In questo caso, giocando con la lente, farò una messa a fuoco non proprio nitida, proprio perché in questo caso la proiezione è sul fondo, deve essere percepibile, devo capire quella che è la sagoma proiettata, ma non deve essere troppo nitida per non distrarre l'attenzione. Direi che siamo pronti e vediamo come migliorare i nostri scatti. Ok Giulia, sempre frontale. Io dalla posizione di ripresa cerco di controllare che Giulia sia abbastanza centrata sulla proiezione della nostra tapparella sulla parete di fondo. Alza leggermente il mento, per cortesia, perfetto. Passiamo a fare qualche scatto in verticale. In questo caso torna molto utile la lampada pilota del nostro Five che mi consente di vedere la proiezione e decidere il posizionamento del soggetto che vado a cercare spostandomi leggermente con l'inquadratura. Benissimo, vediamo questi scatti. Chiaramente il carattere della luce sul tuo viso è dato dalla luce principale che non è cambiata rispetto a prima, quindi è sempre uno schema butterfly molto molto bello, molto cinematografico, molto teatrale, però abbiamo introdotto la tapparella sul fondo che ci dà la percezione di un ambiente un pochino meno assettico della parete tinta unita o della parete che si perde nel nero. Quindi vediamo come semplicemente aggiungendo un pattern sulla parete di fondo siamo riusciti a rendere un pochino più ambientato, un pochino meno assettico, meno banale il nostro scatto. Però Pop One ci può tornare utile grazie ai suoi effetti, proprio per realizzare immagini molto diverse da loro senza stravolgere il set. Non ci fermiamo qui, proviamo a aggiungere qualche nuovo effetto mantenendo il posizionamento e lo schema invariato, semplicemente togliendo il gobos e provando ad aggiungere una gelatina colorata. Ok, quindi togliamo il nostro gobos, la nostra mascherina a forma di tapparella e inseriamo un riduttore circolare. Questa è una serie disponibile come accessorio che mi permette di concentrare ulteriormente il fascio di Pop One per proiettare proprio un occhio di bue dietro la modella. Potrei farlo anche avvicinando il nostro flash alla parete di fondo, ma rischierei poi di averlo nell'inquadratura. Quindi riduco il fascio con questa mascherina e coloro il fascio proiettato grazie alle gelatine colorate in dotazione con Pop One. In questo caso scelgo una gelatina rossa. Benissimo Giulia, siamo pronti anche per questi scatti. Ecco, con la gelatina rossa che filtra molto la luce della lampada pilota non riesco a percepire in modo preciso la proiezione dell'immagine, però in questo caso mi torna utile l'impostazione della mirrorless che mi consente di proiettare la visualizzazione dell'immagine appena scattata direttamente nel mirino, così non sposto l'occhio e cercando di mantenere la posizione o di aggiustarla, posso centrare l'allineamento del viso di Giulia con la proiezione dello spot colorato, dello spot rosso sulla parete. Facciamo qualche scatto anche in verticale. Ecco, in questo caso lo scopo è quello di andare a creare una macchia di luce che vivacizzi il fondo e che crei uno stacco in corrispondenza del viso e dei capelli di Giulia. Vediamo questi scatti. Allora, nel giro di pochissimi secondi, semplicemente sostituendo il gobos, sostituendo la sagoma all'interno di Pop One, abbiamo mantenuto lo stesso sapore della luce principale, in quanto quella non l'abbiamo toccata, ma siamo andati a creare un'ambientazione totalmente diversa, quindi lo stacco del tuo viso sullo sfondo non è più la proiezione della tapparella o di altre sagome, ma in questo caso è una macchia colorata che funziona molto bene anche perché la parete è grigia e non è bianca, quindi riesce a restituirci una saturazione maggiore, riesce a rendere molto meglio il colore e quindi facciamo una separazione non tanto con la sagoma quanto con una differenza di colore che ci crea questa simulazione di un solo artificiale o comunque di una proiezione, in questo caso molto netta, perché a differenza di quanto abbiamo fatto con la tapparella, che era stata mantenuta leggermente sfocata, in questo caso siamo andati a ricercare la perfetta nitidezza sul fondo della nostra proiezione. Ecco, abbiamo visto come possiamo realizzare, in questo caso, due ambientazioni diverse, ma grazie a tutte le sagome, sia in dotazione, sia quelle disponibili come opzione per Pop One, possiamo veramente cambiare il sapore, l'ambientazione, l'effetto di un'immagine in pochi secondi senza dover annoiare la modella, senza dover perdere tempo in complicati cambi di setup. Spero di avervi dato qualche spunto creativo per i vostri prossimi scatti in studio, se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un like al video per stimolarci a fare sempre meglio e se non l'avete ancora fatto vi invito anche a seguire il canale per poter essere costantemente aggiornati sulla pubblicazione di nuovi contenuti. Vi ringrazio per l'attenzione, rimanete con noi anche per i prossimi tutorial, arrivederci da Massimo e da Giulia. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.